Siamo a Livorno, via del Molo, mi diceva 22, sono arrivata in ritardo come sempre Quando ho lasciato le luci della macchina accesa La batteria Esatto Visto? Bene Cosa è successo? Perché stamani io mentre andavo a partire la macchina non partiva più E quindi ho dovuto prendere i cavi, trovare la macchina e accendere Ecco perché ho fatto i ritardi Primo outfit Vestito lungo, elegante Direi su un bordo rosso, qualsiasi occasione Volete abbinarlo a un accessorio Elegante, c'è una fuori, romantica, con ragazzo o single, qui siete, non mi importa Oppure qualcosa di un pochino più easy se volete Anche, che ne so Magari Donate la vostra mamma Un braccialettino bellino Più da adulti, diciamo, no? E questo che indosso invece è il secondo outfit Una tutina Molto carina Questa Più da adulta però, eh Non mi ci trovo tanto io Però molto carina Ditemi quali sono le vostre preferenze Tra questo Volete mettere anche una cintura se volete Oppure questo Io ho questo outfit Orminato in sandalo Basso Argentato Giusto per qualcosa di comodo Volendo potevo mettere anche un tacchettino, no? Magari la sera però Più la sera Un aperitivo, qualcosa di molto easy Bene, siamo arrivati alla fine del terzo outfit Una tutina Colore beige Colore Direi soft Crema Qualcosa che ti dà leggerezza Molto bella Larga Abbinata a un accessorio Elegante in sé Anche se c'ha questi Come possiamo definire Cerchetti grandi Bracialetti Molto belli E niente Dimmi cosa ne pensate Comunque Giornata bellissima Questa diventita tanto Poi ho scattato Cosa che non ci farei da morire E poi Ho provato questi vestiti Mi ha vestiti Quindi cosa chiedi più Più questo taglio Aggressivo Qua tigre Leone Leonessa Ditemi cosa pensate Che di mio taglio Sai Sono una che varietà Treccine Capelli suoi Niente Giornata divertente Se vi è piaciuto questo video Lasciatemi un like E visitate la pagina Grazie a tutti.